Il Branca riscatta subito il KO contro la Narnese e battendo 2-0 la Ponte Vecchio in una gara in cui la formazione di Lisarelli dà una bella prova di solidità con il rientro da titolare di Francione in difesa. Nel 4-3-3 Branca Iolo poi, Giambi detta i tempi che è una meraviglia in mezzo al campo, Benedetti e De Julis sono spine nel fianco e lì davanti marchia una garanzia. Il primo squillo lo suona però stirati di testa con Cucchiararo che mette in angolo. L'episodio che potrebbe far girare la gara in favore della Ponte Vecchio arriva al decimo ma la sventola di Silvestri si stampa sulla traversa. Il 4-2-3-1 disegnato da Caldarelli ha le bocche da fuoco poco incisive lì davanti. La conclusione di Vinciarelli al diciassettesimo così è facile preda di Ser Giacomi. Dall'altra parte De Julis pennella per stirati che spreca. L'arbitro Palombi estrae i cartellini a raffica, la gara si nervosisce. Al trentaduesimo Marchi finisce giù a contatto con Costantini già ammonito. L'azione prosegue e quando Benedetti calcia a rete Cucchiararo non vede partire la palla e l'1-0 per il Branca è servito. Occhio alla reazione dei Pontegiani che si concretizza al minuto 37. Quando il classico 2004 Ser Giacomi, nome da segnare, vola sulla punizione di tre quattrini. Al trentanovesimo poi Bormioli interviene su Marchi che chiede il fallo. Palombi lascia proseguire e quando De Julis ripennella, stavolta dalla destra, né Marchi né Lorenzo Giacometti trovano la deviazione vincente. Si va alla ripresa che si apre con un brivido firmato De Julis su punizione. Caldarelli cerca forze fresche in panchina, fuori Cesaroni, Cecchini e Lorenzini tutti in un colpo, dentro Lucaroni, Battistelli e Toscano. Il gol però lo trova ancora il Branca quando Marchi scarica per De Julis che viene messo giù da Bormioli in area. Palombi ha due passi e indica il dischetto dagli undici metri va Marchi che non sbaglia, secondo gol in due gare e Branca sul 2-0 al minuto 55. Ci pensa poi Ser Giacomi a mantenere la sua porta inviolata, volando come un gatto prima al sessantunesimo, poi al sessantanovesimo. Per la Ponte Vecchio, insomma, non c'è niente da fare. Seconda sconfitta in altre tante partite e all'ottantasettesimo Marchi potrebbe anche firmare la doppietta, ma c'è Cucchiararo a dirgli di no. Cicarelli, la sensazione è che questo Branca lassù darà fastidio a diverse squadre? No, tu mi fai le domande a trabocchetto. Io penso più che altro all'atteggiamento che abbiamo avuto oggi. Abbiamo avuto un atteggiamento giusto perché approfondivamo una squadra, secondo me, che al di là dei risultati, che magari ha perso Elra, ma ha perso molto male, secondo me immediatamente. È una squadra che ha un atteggiamento giusto in campo e mi è messa in campo. E noi siamo partiti, secondo me, con la mentalità di una squadra che oggi voleva venire qua per prendere dei punti. Poi è il dubbio che abbiamo delle qualità, siamo riusciti a indirizzare la partita in una certa maniera e poi, francamente, abbiamo anche rischiato poco. Quindi la cosa più importante è quella. Lorenzo Caldarelli, il rammarico più grande credo sia legato alla traversa col Piedera Silvestri? Sì, al di là degli episodi credo che sia una sconfitta meritata. È vero che il Branca non è stato molto pericoloso, però credo che abbiano dimostrato di essere più solidi di noi, quantomeno nella gestione della partita. Il ragazzo è andato al massimo, questo penso che l'hanno visto tutti. È chiaro che se quando affronti squadre così forti in palla diventa poi complicato poter esprimere il gioco che avremmo voluto. Ci hanno reso la partita difficile.